la gente non girava in macchina, veniva la radio, l'ascolti in macchina, perché non c'è il mio povero, e menona che abbia andare via in macchina, stai andando via a strada così a la gente, al manco c'è, la cesta signora che è figa e tomare cancara. No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A nessun idea della precedenza, tanto, ma no, ecco qui, che due coglioni, abotecati andicapai sul sito che ti fa ammorare perché ti abestimi. La figlia ha detto male con quel merdoso da camion dei mondici, coglione, sta in parte e voce Take to Mexico. L MR 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 Future Un po' meno stabilito a기는za e viaggiare il potente in zero e a lungo, a partire la matessa lei sta in live supporti per quel merdan l'nego di r打 kind at the bay Х di marm・・e che macavano il canale delwindere e pardon come avanti la piccola sua da filla foedeno?